Garantire servizi ai clienti e investimenti sui territori grazie alla redistribuzione degli utili. A CSM Agam, la nuova multi-utility lombarda nella quale si sono fuse Accel Service e l'ario reti gas, si prefigge di proseguire la politica di servizio dei cittadini e sostegno le pubbliche amministrazioni oltre che la realtà di volontariato proprio in passato della partecipata lecchese. A tutelare gli interessi del nostro territorio in consiglio di amministrazione ci saranno Marco Canzi e Chiara Cogliati. Canzi ha ottenuto anche la vicepresidenza della società. È un grandissimo risultato quello che abbiamo raggiunto con questa partnership perché mettiamo a disposizione del territorio di Lecco tutta una serie di servizi innovativi che già sono sperimentati in realtà più grandi, penso alle Smart City in primo luogo, con un gruppo, una società partecipata dagli stessi comuni che quindi ha tutto l'interesse a colloquiare con gli clienti e con gli operatori del territorio tutti, comprendendo ovviamente anche le aziende e diciamo il terzo settore, i servizi e quant'altro. Per gli utenti avremo una società che vende gas e energia più forte perché lavora su un territorio più ampio che quindi sarà in grado di essere concorrenziale e vicina agli utenti in termini di servizi. Il principale impegno è che vengano soddisfatte ad impiute le condizioni che ci hanno portato a fare questa partnership quindi sarà sicuramente un mio compito verificare che tutti i patti sottoscritti vengano rispettati e si colga l'obiettivo di fondo che dicevo prima. Il piano industriale che poi verrà finalizzato entro quest'anno prevede comunque una crescita degli utili e di conseguenza dei dividendi perché chiaramente ci saranno delle sinergie tra le attività di questo gruppo e quindi le prospettive sono buone. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.